ciao a tutti oggi prepareremo i tartufini il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono biscotti secchi cioccolato fondente burro cacao amaro e zucchero il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta iniziamo tritando i biscotti mettiamo i biscotti dentro il boccale e li tritiamo per 10 secondi a velocità 7 mettiamo da parte i biscotti che ci serviranno successivamente rimettiamo a posto il boccale senza lavarlo e aggiungiamo il cioccolato fondente che andremo a tritare per 10 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo lo zucchero il burro e facciamo cuocere il tutto per 3 minuti a 70 gradi velocità 2 andiamo ad aggiungere i nostri biscotti che avevamo precedentemente tritato e amalgamiamo il tutto per 20 secondi a velocità 4 adesso mettiamo da parte il nostro composto in una ciotola e lasciamolo raffreddare in frigo per almeno mezz'ora adesso andiamo a formare i nostri tartufini adesso andiamo a passarlo nel cacao dopodiché andremo a posizionarlo nei nostri pirottini andiamo a farne un altro e poi lo passiamo sempre nel cacao e poi posizioneremo all'interno dei pirottini tartufini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti